Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano su richiesta delle famiglie delle vittime della strage ferroviaria del 12 luglio 2016 ha disposto il rinvio al giorno successivo giovedì 13 luglio delle iniziative di raccolta del sangue previste nella città di Andria. La decisione di Emiliano è scaturita alla luce delle proteste dell'ASTIP composta da alcuni familiari delle vittime della tragedia ferroviaria che avevano chiesto una manifestazione solo per commemorare i propri cari. La giornata del 13 luglio si articolerà pertanto in una raccolta straordinaria di sangue con due autoemoteche e due infopoint sul tema della donazione in una mostra virtuale chiamata Globulandia allestita in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue.